Questo programma è offerto dal quotidiano telematico www.quattrominuti.it. Abbonati online gratuitamente. www.quattrominuti.it. Abbonati online gratuitamente. Di cui è il presidente Tiziano Motti, che si chiama Europa dei diritti, la quale da un lato informa su quelli che sono i nostri diritti e questa è una cosa non trascurabile, perché io credo che sia l'unica che ti fornisce queste informazioni. E avere un'informazione vuol dire avere anche più forza, più potere per farsi rispettare, ma poi aiuta, e vedrete come, ce lo spiegherà il presidente Motti, aiuta anche a risolvere quando i diritti sono violati. Poi ultimamente io ho anche notato che si occupa sempre di più dei diritti delle donne, tanto che la si potrebbe chiamare Europa dei diritti delle donne o Europa delle donne. Perché? Perché in effetti con tutto quello che si dice, pari opportunità, progresso, questo e quell'altro, secondo me la donna ancora è molto debole rispetto all'uomo. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Salve, saluto a tutti. Sto bene, grazie, mi piace essere in questo spazio che lei dedica gentilmente ai nostri telespettatori, ha avuto una visione quasi pessimistica, ha detto ci parlano dei nostri doveri, in qualche modo ci ostacolano nel conoscere i nostri diritti. Per me. E quindi tenderò a evitare di violarli, da cui anche automaticamente la consapevolezza dei doveri. Il tema di oggi poi è particolarmente interessante e coinvolge, a mio parere, io poi do dei miei giudizi, dove poi il presidente Motti mi può anche correndere, eccetera. Sono molto coinvolte le donne, cioè noi parliamo della famiglia e i diritti, cioè la famiglia e i suoi diritti. Guardiamo un momento un sondaggio. Secondo lei è meglio sposarsi o convivere? Prima la convivenza, poi si pensa al matrimonio. Secondo lei oggi è meglio sposarsi o convivere prima? Sposarsi. Per lei? Indifferente, sottoforzato a sposarmi, mi ha costretto. È meglio sposarsi o convivere? Convivere, sicuramente. Secondo me è meglio convivere. Per lei? No, sposarsi forse comporta un po'... A mezzo di oggi sono troppe tasse da pagare, quindi forse è meglio per il momento convivere, ma peraltro per un'esigenza proprio economica. Secondo lei è meglio sposarsi oggi o convivere? Bisogna sposarsi, convivere un altro film. È un'altra storia. Per lei, signora, sposarsi o convivere? È una bellissima avventura sposarsi. A mio parere occorre viverla fino in fondo, con la consapevolezza che si ha man mano che il tempo passa e che ci mette il rapporto. Secondo lei è meglio convivere o sposarsi oggi? Beh, noi ci siamo sposati un po' per loro, per rendere la cosa più legale possibile, però diciamo che per me la convivenza è uguale, identica al matrimonio, non cambia assolutamente niente. Si spendono i solpi soli per sposarsi e basta. Ecco, Presidente Motti, ha sentito quello che hanno detto. Qual è il suo parere? Il mio parere è che comunque c'è nei cittadini un'esigenza di famiglia, famiglia tradizionale. La convivenza è una grande conquista dell'emancipazione, nel senso che comunque il diritto di convivere è avere dei diritti, perfetto. Scusi, la penso come lei. La penso come lei. Tuttavia c'è questa esigenza di una famiglia con canoni tradizionali, la famiglia che esce dal matrimonio, con i figli, perché probabilmente in un clima anche di incertezza, come quello che stiamo vivendo attualmente, il fatto che ci siano dei punti fermi da ricercare, un po' nella tradizione, un po' nel fatto che nell'ambito, lei poi so che non è affezionato alle nuove tecnologie, però con il discorso di Facebook, di Internet, si va sempre molto al di fuori. C'è ormai una proiezione interpersonale molto forte, probabilmente la famiglia è l'ultimo nucleo che ci trasferisce. una certa sicurezza. Noi in Europa dei diritti riceviamo molte domande di donne preoccupate per quella che sarà la loro sorte dopo il termine del matrimonio, cioè dopo il divorzio, dopo la separazione, e quindi ho portato due casi che vorrei illustrare brevemente ai telespettatori e credo che sia da fare dopo la pubblicità. Bellissimo, allora stacco pubblicitario. L'associazione Senza Fini di Lucro Europa dei Diritti promuove la collana Noi Cittadini, diffusa gratuitamente a 4 milioni di famiglie in 500 comuni italiani. Sulla sito internet www.europadeidritti.it puoi scaricare gratuitamente i libri e le dispense dedicate alla difesa dei tuoi diritti. Puoi inviare le tue domande a cui risponderà gratuitamente un team di 140 studi legali. Puoi segnalare ingiustizie subite nel tuo comune e ottenere visibilità. Europa dei Diritti, da voce ai cittadini. Ogni giorno raggiunge 800.000 iscritti al servizio di news tramite posta elettronica. Iscriviti gratuitamente tramite il sito internet www.europadeidritti.it e seguici anche sul sito www.motti.eu